Canzoni e in parte di riflesso anche interpreti che rivivono. Quante volte ci è capitato di parlarne, soprattutto quando accade di ascoltare alcune cover di superclassici? Ed è quello che è proprio successo anche in tempi recenti, in particolare con Take Me Home, Country Roads, un classico appunto che in questo caso è stata Lana Del Rey a voler ricantare, in qualche modo omaggiando la tradizione musicale americana e anche in parte Elvis Presley, che ne è stato uno degli interpreti più noti. Il brano è naturalmente un classico, del 1971 di John Denver, ma Lana Del Rey ha pubblicato a sorpresa la sua versione di Take Me Home, Country Roads. Il single arriva dopo che la stessa artista ha realizzato un'altra cover di un altro classico americano, parliamo di Unchanged Melody, eseguita per uno speciale natalizio andato in onda da Graceland. La cantautrice ha continuato poi a tenersi impegnata da quando ha concluso il suo breve tour autunnale e ottobre. In quel mese ha ricevuto cinque nomination ai Grammy per il suo album Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard? Il disco è stato nominato infatti come Album of the Year e Best Music Album, mentre il brano A&W è nominato nelle categorie Song of the Year e Best Alternative Music Performance. Ma tornando a Take Me Home, è una canzone che ha compiuto dunque 53 anni e va per i 54 per la precisione, anche se mancano ancora diversi mesi a questo anniversario. E infatti era esattamente il 30 dicembre del 1970, mezzo secolo fa, quando John Denver aveva appena 27 anni e non era certo ancora una superstar. L'anno prima una sua canzone, Living on a Jet Plane, aveva avuto un buon riscontro nella interpretazione di quello che era il trio folk per Paul and Mary. E lui, sulla scia di quel primo successo come compositore, aveva tentato la fortuna anche come interprete. Era riuscito a pubblicare con la RCA ben tre album in un anno. Nessuno però di questi aveva ottenuto grandi attenzioni. Ecco che a dicembre del 1970 stentava ancora a riempire i 200 posti del Cellar Door, il club di Washington DC, nel quale in quella settimana, proprio fra Natale e Capodanno, era in cartellone tutte le sere come headliner. Eppure per quella canzone country, ancora allo stato embrionale, Denver aveva avuto un colpo di fulmine. E infatti, insieme a Billy Danoff e a Taffy Neaver, marito e moglie, poco più che ventenni, due sconosciuti di belle speranze per i quali era già tanto aprire per un artista di serie B come John Denver, ecco che aveva fatto l'alba per completare e arrangiare quel brano. E l'indomani, in quella fatidica serata del 30 dicembre, fu lui a cantarla per la prima in pubblico. Da lì in poi sappiamo che è storia e noi la vogliamo rivivere adesso attraverso il brano nella sua versione originale. Buon ascolto!